bina 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 ciao bina ho fatto con alessi e dice che ce l'offre lei residence che grandi organizzatori adesso ho schiacciato record quindi ho risparmiato i soldi di questo è preso di scena stati se tu diventerai relatore di questo libro sai ah dai fantastico sei contento allora devo studiarlo proprio bene esatto anche gli eventuali errori eh guarda che cosa ho trovato oggi l'ultimo modello rimasto tagliamene di metallo metallo si perché quelli di plastica tendono a rompersi e quindi spettacolare senti qua ho schiacciato hai spinto retto abbiamo parlato per dieci minuti non aveva spinto retto scusate 5 minuti salutavi la mamma no salutavo la mamma tu salutavi Serafino dai saluta Serafino ciao Serafino ciao tu vuoi salutare qualcuno in questo momento ciao mamma è stato bello gettonatissime le mamme la mamma è al primo posto sempre Gaetano fruttaniano da un po un po bene frutta che Serafino